e ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale io sono aran e oggi parliamo di king arthur knight's tale pronta a mescolare la mitologia furiana classica idoni oscuri da souls like king arthur knight's tale viene annunciato ufficialmente con una campagna kickstarter sviluppato da neo core games king arthur knight's tale verrà lanciato inizialmente su pc con una data di rilascio del primo trimestre del 2021 da lì però dovremo attendere diverso tempo per vederlo su xbox serie x e ps5 basato sulla mitologia arturiana king arthur knight's tale è un gioco di ruolo tattico a turni che struttura la sua formula su un sistema ibrido tra tattici a turni e gdr tradizionali incentrati sui personaggi proprio per questo ci sarà la possibilità di partecipare a numerosi combattimenti esplorare enormi regni e utilizzare più eroi le caratteristiche principali del titolo includeranno la possibilità di controllare una piccola squadra di eroi di combattere battaglie estenuanti ma molto appaganti con un sistema di combattimento a turni profondamente coinvolgente e tattico si potrà scegliere tra più di 30 eroi ciascuno diviso in cinque classi diverse e combinare centinaia di abilità artefatti per formare una squadra praticamente imbattibile avremo la possibilità di guardare l'intera avalon sulla mappa di gioco e osservare tutto il territorio selezionando le nostre missioni e esplorando i vari luoghi la gestione in king arthur knight's tale si concentra sulla ricostruzione di camelot e sulle espansioni della fortezza cioè del nostro castello con nuovi edifici che sbloccano ciascuno vari potenziamenti e offrono anche modi diversi per curare e gestire gli eroi della tavola rotonda potremo giocare nei panni di ser mordred la nefesi di re arthur esplorare la isola di avalon e avventurarci in missioni cavaleresche e prendere decisioni in vari incontri in cui avremo la possibilità di fare delle scelte morali per ora del titolo e tutto quello che sappiamo aspettiamo nuove informazioni e io vi rimando la pagina kickstarter del progetto che vi metto in descrizione vi ricordo di iscrivervi al canale e mettervi una bella campanella delle notifiche e al prossimo video ciao da aran